Musica Patto di stabilità a Molise in attesa, nel provvedimento i fondi per la ricostruzione, confronto aperto, ha detto il sottosegretario De Camillis, ma la legge va approvata. Tutte e leva ottengono l'impegno del governo per 15 milioni subito. Musica Cerimonia di insediamento per il nuovo rettore, oggi all'Università di Campobasso, Giamaria Palmieri ha indicato i punti principali del suo programma, puntiamo a migliorare l'offerta e a crescere di qualità, ha detto. Musica Fratelli in manette per accoltellamento a palata, sono stati arrestati i due che hanno aggredito un ragazzo che avevano derubato in precedenza, volevano ottenere il silenzio sul furto, ora sono in carcere per tentato omicidio. Musica Anche Alfeiger lascia ITR, domani nuovo punto sullo stato dell'azienda, dopo il vertice al Ministero dello Sviluppo, Brasiello convoca un incontro con Frattura e i parlamentari, intanto il brand americano non rinnova. Musica Il campo è pronto, il Fornelli torna a casa dopo sette mesi di lavoro, ultimato il terreno sintetico, domenica in eccellenza la decima giornata, Campobasso capolista ospita il Gamba Tesa. Buon pomeriggio dalla redazione di Telemolise, in apertura di questa edizione del nostro telegiornale parliamo di ricostruzione post-terremoto perché è stato un tema affrontato stamattina sia a Campobasso che a Roma. Cominciamo proprio dal capoluogo molisano, dove di ricostruzione post-terremoto ma anche di altri argomenti di stretta attualità si è parlato nella conferenza stampa che il sottosegretario di Stato Sabrina De Camillis ha tenuto in prefettura. Per noi c'era Tonino Danese. Il mese scorso aveva assaltato la consueta conferenza stampa in prefettura a Campobasso per fare il punto sull'attività di governo e sottosegretario Sabrina De Camillis ha voluto recuperare se è soffermata su alcuni provvedimenti a suo avviso importanti come quelli su femminicidio, scuola, sulla legge di stabilità. Ha detto il confronto è aperto ma la richiesta al Parlamento è di approvarla. C'è poi la questione patto di stabilità e ricostruzione post-terremoto. Per la questione 15 milioni di euro, che è una correzione di quello che avevamo inserito nel decreto del fare, il governo si è impegnato a risolverlo nella manovrina che è un provvedimento che già è a Montecitorio e questo ci consentirà di risolvere la questione per il 2013 dei 15 milioni di euro. Per quanto riguarda invece il proseguo della ricostruzione e quindi tutte le risorse della delibera Cipe erogate e stanziate per la ricostruzione il Ministero del Tesoro e i tecnici del Ministero del Tesoro stanno lavorando a trovare un percorso che ci consenta di dare continuità alla ricostruzione di questa regione perché ci si è resi conto che è stato inadeguato e sbagliare dare risorse per la ricostruzione legandole a un percorso ordinario, quindi legandole al mantenimento all'interno del patto di stabilità. Ci dovrà essere un provvedimento che chiarisca definitivamente che quelle risorse sono risorse erogate per la ricostruzione. La De Camillis è intervenuta anche sulla vicenda rifiuti tossici dopo le dichiarazioni di Carmine Schiavone che hanno interessato pure il Molise. Lavoriamo perché si faccia una mappatura quanto più veloce possibile di quello che c'è, di quello che è stato fatto. Andiamo a individuare la quantità del danno che questo tipo di meccanismo ha creato ai nostri territori e da subito mettiamo in campo le iniziative per le bonifiche. Così sul progetto Gran Manze. Ritengo che su quel progetto ci possano essere delle questioni che non ancora sono molto chiare. Altri temi toccati dal sottosegretario, le vertenze ITR e GAM. Ci sono risorse che sono state liberate per la contrattazione negoziata e possono essere destinate ad aree di crisi complessa come sono quelle dell'ITR e dell'Arena. Infine la politica con la sua posizione nel dibattito aperto all'interno del centrodestra e del PDL. La mia posizione è chiara, io ho sempre detto il nostro leader Silvio Berlusconi, insieme al nostro leader Silvio Berlusconi costruiamo un centrodestra innovativo che ci consenta di essere credibili nei confronti degli elettori. E su richiesta dell'ACEM a Roma si è tenuto un tavolo tecnico per sbloccare il patto di stabilità ai fondi della delibera Cipe destinati alla ricostruzione. Il cantiere è stato aperto con il governo per rendere utilizzabili subito 15 milioni di euro. L'Associazione Costruttori Edili del Molise non si arrende e insiste per eliminare il vincolo del patto di stabilità dai fondi della delibera Cipe destinati alla ricostruzione post-terremoto. D'intesa con i parlamentari del Molise infatti l'ACEM ha attivato un tavolo tecnico nazionale al quale hanno partecipato il senatore Roberto Ruta, l'onorevole Laura Venitelli, promotrice dell'incontro, due dirigenti inviati dal sottosegretario Sabrina De Camillis, Corrado Di Niro, Gino Di Renzo e Nicola Paolucci, rispettivamente presidente, vicepresidente e direttore dell'ACEM e l'onorevole Francesco Sanna, consigliere politico del premier Enrico Letta. L'esito dell'incontro è stato giudicato proficuo da tutti i partecipanti. In particolare il senatore Roberto Ruta ha dichiarato Il cantiere è stato aperto, nello spirito della piena collaborazione con il governo per rendere utilizzabili i 15 milioni di euro, possibilmente già nell'anno 2013 e per avere nel prossimo triennio certezza di risorse significative individuate con l'approvazione della legge di stabilità 2014 incardinata al Senato, per cui presenterò i necessari emendamenti. Dal canto suo l'onorevole Sanna ha raccomandato i dirigenti della Presidenza del Consiglio presenti all'incontro di tenere in debita considerazione gli emendamenti del senatore Ruta. Soddisfatto anche il presidente dell'ACEM, Corrado Di Niro, che ha dichiarato La nostra piccola associazione è riuscita ad ottenere impegni precisi dai livelli nazionali importanti. La strada intrapresa è quella giusta, poi ha aggiunto Di Niro, che ha anche ringraziato i parlamentari molisani per la loro sensibilità e per il costante impegno profuso nella delicata e difficile vicenda. Intanto, in mattinata, Roberto Ruta e Danilo Leva hanno incontrato il ministro per i rapporti con il Parlamento, Dario Franceschini. L'intento, ha concluso Ruta, è quello di mettere in campo e di unire tutte le forze per avere il massimo del risultato possibile consapevoli della drammatica ristrettezza finanziaria. E restiamo in tema perché stamattina a Palazzo Chigi i parlamentari Ruta e Leva hanno incontrato il ministro Dario Franceschini proprio sulla questione sollevata dall'ACEM e sulla possibilità di utilizzare già entro l'anno i 15 milioni di euro destinati alla ricostruzione in Molise. Il ministro ha annunciato per conto del governo di aver invitato il relatore della cosiddetta minimanovra, Melilli, a modificare il testo per rendere immediatamente fruibili le somme. L'occasione è servita in via prioritaria anche per ribadire l'impegno del governo a destinare nella legge di stabilità per il triennio 2014-2016 altri fondi necessari per completare la ricostruzione. Cambiamo argomento, stati generali per la vertenza ITR domani a Comune di Isernia. Brasiello ha invitato a Palazzo San Francesco sia il governatore Frattura che la delegazione parlamentare, oltre che sindacati e lavoratori. Si parlerà dei risultati del Vertice di Roma, ma anche della notizia arrivata oggi dell'ennesima perdita di un'importante licenza, quella dell'americana a Elfager. Facciamo il punto con Enzo Di Gaetano. Incontro al Comune di Isernia per affrontare la vertenza ITR. Il Sindaco Brasiello ha convocato per domani mattina a Palazzo San Francesco i parlamentari, i presidenti di Regione, Provincia e Camera di Commercio, oltre che sindacati, RSU e rappresentanze del personale non sindacalizzato. Probabile anche la presenza del nuovo amministratore delegato Petrollini saranno presi in esame, tra l'altro anche i risultati del Vertice Ministeriale di Roma. E intanto, come se non bastasse, un'altra brutta notizia per ITR. Infatti, dopo la rottura anzitempo della collaborazione con Costume National e Karl Lagerfeld, ora è toccato a Tommy Hilfiger rompere l'accordo di licenza delle prime linee uomo e donna del brand americano. La produzione è passata alla trevigiana PR. L'accordo tra ITR e Hilfiger aveva debuttato con l'autunno-inverno 2012 e prevedeva la produzione e distribuzione, attraverso sei showroom, delle collezioni di sfilata di abbigliamento e la maggior parte degli accessori, principalmente in Europa, Nord America e Asia. Alla base dell'interruzione della partnership ci sarebbe una serie di ritardi da parte della società morisana, che non ha mai consegnato la collezione 2013 del brand USA. A settembre ITR aveva annunciato la conclusione della collaborazione con Karl Lagerfeld, mentre prima dell'estate era saltata anche l'intesa con la famiglia Capasa. Attualmente nel portafoglio di ITR rimangono marchi tra cui Aquascutum, Jean-Paul Gaultier, Pierre Balmain, Guy Laroche e Galliano. Intanto da Milano arriva la conferma della notizia della chiusura dello store in via Manzoni e del monomarca Pierre Balmain in via Borgo Spesso. Ma la brusca interruzione degli store milanesi è solo uno dei numerosi problemi da affrontare. La parola definitiva infatti spetterà al Tribunale di Sernia, che ha dato tempo ai ITR fino al 26 novembre, per presentare un piano di rientro dagli 88,7 milioni di euro di debiti dichiarati nella richiesta di concordato. Sono 52 le aziende ammesse al finanziamento per 68 dipendenti nell'ambito del programma azione di sistema Welfare to Work per le politiche di reimpiego. Il programma prevede il potenziamento degli interventi per reinserire i lavoratori che hanno perso il lavoro o il cui posto è a rischio. L'obiettivo è quello di favorirne un rapido rientro nel sistema produttivo mediante la concessione di aiuti nella forma di sovvenzione diretta alle imprese che li hanno assunti a tempo indeterminato o che hanno trasformato sempre a tempo indeterminato un rapporto di lavoro già esistente. Terminata la fase istruttoria, l'assessorato regionale al lavoro sta predisponendo il pagamento dei contributi. Adesso andiamo all'Università del Molise perché stamattina c'è stata la prima conferenza stampa dopo l'insediamento avvenuto nei giorni scorsi del nuovo rettore Gian Maria Palmieri. Ha fatto il punto della situazione indicando le priorità per il futuro e ha parlato anche della questione spinosa dei tagli agli Atenei. Il servizio di Anna Maria Di Matteo. È già sceso in campo in difesa dell'Ateneo Molisano e delle altre piccole università il nuovo rettore Gian Maria Palmieri. Lo ha fatto elaborando una mozione sottoscritta dai colleghi degli Atenei statali pugliesi con la quale sollecita una distribuzione delle risorse, poche per la verità, che non penalizzi ulteriormente le università come quella del Molise che si trovano in aree svantaggiate del paese. Dobbiamo migliorare ma abbiamo la necessità di poter contare sulle stesse possibilità offerte agli altri Atenei ha puntualizzato il rettore. I tagli agli università sono oramai una costante da diversi anni, tuttavia i parametri che oggi vengono utilizzati e che sono stati anche ulteriormente definiti da un recente decreto ministeriale arrivano a penalizzare ulteriormente le realtà piccole e giovani come quella che io rappresento del nostro Ateneo. C'è un'azione congiunta con i rettori pugliesi e con anche le forze parlamentari molisane in Senato e alla Camera. C'è stata un'interrogazione parlamentare del senatore Ruta negli scorsi giorni, anche dell'onorevole Leva e il ministro proprio nella seduta del Senato di ieri si è mostrato apertura rispetto poi a quanto sarà stabilito nella legge di stabilità. Una posizione chiara dalla quale emerge subito l'intenzione di Palmieri di far sentire la voce di un Ateneo regionale, le equisorti, ha detto nel corso della sua prima conferenza stampa, sono strettamente legate a quelle della Regione. Il rettore ha indicato le linee guida sulle quali si muoverà nel corso del suo mandato, puntare sul nucleo di qualità dei corsi in modo da poter rispondere alle aspettative dei giovani e migliorare gli indicatori di qualità per i quali, ha detto, siamo monitorati costantemente. Affronteremo i temi dell'offerta formativa sostenibile e del miglioramento degli indicatori di qualità. Offerta formativa sostenibile significa offrire anche ai nostri studenti un pacchetto di corsi che incontri le loro esigenze, quindi un'opera di semplificazione, di razionalizzazione e di miglioramento che speriamo possa rinanciare un Ateneo che tanto ha fatto in questi anni, ma che non deve fermarsi e così cularsi sugli allori, ma deve andare avanti e migliorare. Via Libera dal Senato al decreto scuola è un primo passo concreto, finalmente si inverte la rotta impegnando e non togliendo le risorse, ha detto il senatore del PD Roberto Ruta. Prime scelte chiare, ha continuato, che danno il segno della volontà di combattere la dispersione scolastica, di dare alla scuola e agli insegnanti anche di sostegno la stabilità che serve per garantire la continuità didattica agli studenti, di voler fronteggiare la grande emergenza nazionale dell'edilizia scolastica. Tra le altre cose Ruta ha sottolineato che vengono stanziati 100 milioni di euro per il diritto allo studio per i capaci e meritevoli privi di mezzi. Come PD ha concluso, saremo ora impegnati nella legge di stabilità per reperire nuove risorse per il diritto allo studio di finanziamento ordinario dell'università, per trovare risorse per la ricerca di base e sbloccare definitivamente il turnover degli Atenei e degli enti di ricerca per migliorare le condizioni di lavoro stabile e di retribuzione degli insegnanti. Adesso torniamo alle polemiche seguiti alla messa in onda del servizio della trasmissione Le Iene sui fondi per i portaborse alla Regione Molise. L'assessore Vittorino Facciolla fa chiarezza e mostra alle telecamere di Telemolise il contratto che lo lega all'ormai famoso portaborse Vincenzo. Il servizio è di Giovanni Minicozzi. No, 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 non è così. Insulti ai politici, polemiche, minacce, indignazione popolare sempre più accentuata. È successo di tutto dopo la trasmissione delle Iene sugli stipendi dei consiglieri regionali e soprattutto sull'indenità aggiuntiva per i portaborse percepita da quasi tutti gli eletti di Palazzo Moffa anche dopo l'approvazione della legge numero 10 del 25 luglio 2013. Intanto l'assessore Vittorino Facciolla, il più tartassato dalla Iena Paolo Calabresi, ha eliminato ogni dubbio mostrando a Telemolise il contratto sottoscritto tra lui e il famoso Vincenzo utilizzando proprio i fondi dell'articolo 7. Il contratto c'è, il contratto non solo esiste ma è stato dal soggetto beneficiario del contratto evidenziato alle Iene in una telefonata. La seconda telefonata è avvenuta pochissimi secondi dopo la prima telefonata nel quale il mio collaboratore ha chiarito tutti gli aspetti della vicenda e che malauguratamente non è stata mandata in onda. Però sfortunatamente per chi vuole fare attività di sciacallaggio il contratto è qua. Lo ho a disposizione, lo metto a disposizione di Telemolise. Non è un contratto farlocco come qualcuno ha voluto riferire divertendosi ma è un contratto che ha una data certa che proviene da una istituzione preposta a fornire le date certe. Quindi lo metto a disposizione di Telemolise. Se dico di più aggiungo che il contratto è per un importo superiore a quello che oggi mi è stato trasferito. Quindi coprirà anche i prossimi trasferimenti. Giusto per far comprendere che è vero che la classe politica in questo momento è sotto l'attenzione vigile del cittadino che fa bene ma non siamo tutti uguali. Ma lei ci autorizza a mostrare il contratto ai nostri telespettatori? Assolutamente sì. Eliminate i dati sensibili e ne fate ciò che volete. Magari lasciateci Vincenzo così uno non può avere il dubbio che sia soggetto diverso. Fermo lo stando che nel mio possesso l'originale che vi rammostro. Mi sembra assolutamente evidente che il contratto sia stato stipulato in ragione dell'articolo 7 e non quale gruppo consigliare. In ragione dell'articolo 7. Quindi in ragione degli emolumenti che vanno al consigliere regionale per questo tipo di funzioni e non quale capogruppo. Per eliminare i dubbi sarebbe opportuno che anche altri consiglieri regionali mostrassero i loro contratti. Avviare anche per il Molise un'indagine accurata sulla salubrità dei terreni, delle falde acquifere e dell'aria nelle aree più direttamente interessate dall'interramento illegale di rifiuti tossici attualmente note anche al fine di prevenire allarmismi generalizzati che possano danneggiare il settore agroalimentare molisano avvalendosi delle componenti strutture sanitarie e di ricerca. E il contenuto dell'interpellanza al governo presentata dai parlamentari del PD Laura Venitelli e Danilo Leva a seguito delle dichiarazioni del pentito di Camorra Carmine Schiavone. Nel documento si chiede dunque di adottare anche per il Molise misure di verifica di controllo e di bonifica previste già per Campania e Lazio e di assumere le iniziative di competenza necessarie a verificare l'esistenza di siti da bonificare. Intanto il questore di Campobasso Pozzo ha emesso un'ordinanza diretta a tutte le forze di polizia affinché nel corso dei servizi di vigilanza stradale venga confermata la più elevata attenzione ai controlli dei mezzi di trasporto diretti ad intercettare eventuali flussi nel territorio provinciale. Tuttavia dagli uffici di via Tiberio e dal vertice in prefettura si sottolinea che dalle analisi non risultano al momento episodi di smaltimento illegale riconducibili alla criminalità organizzata. E adesso la cronaca che ci porta a parlare di un episodio accaduto a giugno quando due fratelli accoltellarono un loro conoscente. Ora c'è una novità perché queste due persone sono state arrestate. Ci dice i dettagli. Emanuela Iorio. Due fratelli di Monte Cilfone di 40 e 23 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Palata su ordine del GIP Aldo Aceto con l'accusa di tentato omicidio aggravato, violenza privata e porto abusivo di arma. Con le stesse accuse è stato denunciato un minorenne, un giovane di soli 17 anni. I tre erano insieme quando prima dell'estate del 16 giugno tesero un'imboscata a un ragazzo di 24 anni di Palata ferendolo con tre coltellate di cui quella più grave sotto la scella vicino al polmone. scapparono e vennero rintracciati dopo qualche ora. Per il gruppetto, in un primo momento, solo una denuncia per lesioni gravissime, ma dopo cinque mesi di indagini per loro è scattato l'arresto. Il giudice ha valutato la premeditazione e il concreto rischio che la giovane vittima potesse morire. Il ragazzo, infatti, subito dopo l'aggressione, svenne. Perdeva molto sangue e probabilmente sarebbe morto se non l'avesse soccorso un passante. Alla base dell'aggressione un tentativo di furto da parte dei tre che erano stati ripresi qualche giorno prima dalle telecamere di videosorveglianza mentre di notte facevano un sopralluogo nell'azienda agricola del giovane di Palata con l'intenzione di rubare gasolio e attrezzi agricoli. Il ragazzo, riconoscendoli, li andò a cercare e si raccomandò di non avvicinarsi alla sua proprietà e che li avrebbe denunciati ai carabinieri. Ma passate alcune ore la banda si è rifatta viva in paese, chiedendo anche ad alcuni passanti se avevano visto il giovane proprietario terriero. La trovarono poco dopo in zona Fonte Berchicci, vicino al cimitero, dove iniziò una lite che sfociò nell'accoltellamento. Fu utilizzato un coltello a seramanico con una lama da 10 centimetri. I tre lo lasciarono agonizzante a terra. Per fortuna la vittima si è salvata e ieri per due componenti della banda è scattato l'arresto. Al momento del fermo addosso al fratello più grande è stato trovato un coltello, anche questo a seramanico. Il più piccolo aveva invece nelle tasche un grammo di hashish. Per le indagini è stata fondamentale la collaborazione dei residenti. Le indagini sono partite proprio dalle dichiarazioni prima della vittima e poi di alcuni testimoni che hanno consentito di ricostruire i movimenti delle persone arrestate. Quindi cercare di ricostruire la vicenda dimostrando un po' la premeditazione del gesto ma anche l'irruenza che ha portato poi a un litigio generato in un accoltellamento, quindi in un fatto grave configurato poi come tentato omicidio. I due ora sono rinchiusi nel carcere di Larino in attesa di interrogatorio. Adesso parliamo di trasporti perché prosegue lo scontro tra il governatore Paolo Frattura e i vertici delle ferrovie dello Stato. Il servizio è di Anna Maria Di Matteo. Solo un mese fa i rapporti tra la regione e i vertici delle ferrovie dello Stato sembravano a dir poco idilliaci, strette di mano e tanti sorrisi davanti alle telecamere per la firma di un accordo che prevedeva corposi investimenti per la messa in sicurezza della tratta ferroviaria Campobasso Termoli. Un idillio che sembra essersi interrotto bruscamente al termine della conferenza delle regioni presieduta oggi dal governatore Paolo Frattura. Ebbene, il presidente della regione ha attaccato frontalmente l'amministratore delegato delle ferrovie Mauro Moretti che in sostanza ha detto che i cordoni della borsa sono nelle mani dei presidenti e che quindi tocca proprio a loro fare di più sul fronte dei trasporti ferroviari. La replica del governatore del Molise all'esternazione di Moretti è stata vehemente. Se per i trasporti si stanziano 300 milioni ma poi le regioni tagliano trasferimenti per 560 milioni, ha denunciato Frattura, vorremmo chiedere all'amministratore delegato dove sono le risorse di cui parla. Una domanda che probabilmente resterà senza risposte. Ma intanto, a proposito di trasporti ferroviari di disservizi, arriva la presa di posizione del consigliere regionale di costruire democrazia Filippo Monaco, intervenuto in seguito all'ultimo episodio in ordine di tempo, che si è verificato sulla tratta Campobasso-Roma. Monaco ha presentato una mozione urgente al Consiglio regionale affinché l'Aula si impegni a trovare in tempi rapidi una soluzione che ponga fine ai viaggi della speranza, come li ha definiti il consigliere, attivando un tavolo di confronto con i vertici di Trenitalia. È inaccettabile quello che i viaggiatori molissani da e per Roma devono affrontare ormai quotidianamente, ha denunciato, ogni giorno facciamo i conti con i disagi, disservizi, ritardi che superano anche le tre ore, senza parlare delle carrozze sovraffollate. A pagarne lo scotto sono sempre i pendolari e i viaggiatori, ha concluso Monaco. E a proposito di ferrovie, c'è una polemica che monta ormai da settimana, è quella sulla soppressione della Transiberiana d'Italia, così è stata ribattezzata la Carpinone sul Mona. Tantissime persone vorrebbero fare quel viaggio tra le montagne tra Abruzzo e Molise, ma le corse sono state per ora interrotte. Domani manifestazione di protesta a Rivi Sondoli con i sindaci molissani e abruzzesi. Ce ne parla Enzo Di Gaetano. Per manifestare il loro no alla soppressione della linea ferroviaria Carpinone sul Mona, si ritroveranno domani alle 16 presso le terme alte di Rivi Sondoli i sindaci, le associazioni e i cittadini, sia molissani che abruzzesi, che in maniera diretta o indiretta sono colpiti da questo impoverimento del territorio. La protesta è scaturita proprio dall'improvvisa decisione di chiusura della Transiberiana d'Italia, che negli ultimi anni si è rivelato un'autentica opportunità per un territorio come quello abruzzese e alto molisano, tutelato dall'UNESCO e dai parchi nazionali. Transita Ollus, nel corso di un solo anno, ha portato sui treni speciali circa 8.000 turisti, ciò a dimostrazione che in un territorio di tale bellezza è possibile creare opportunità di turismo, in cui anche i produttori enogastronomici dell'Abruzzo e del Molise hanno potuto ricavare immagine, guadagni ed inaspettate prospettive occupazionali che di colpo sarebbero cancellate. Lo scopo della manifestazione è quello di dire basta ad una politica fatta solo ed esclusivamente di parole e non di atti concreti che sciolgano in maniera definitiva dubbi sulla possibilità di creare delle vere opportunità turistiche su questi territori. Proporre a tour operatori mondiali viaggi in queste terre e sulle ferrovie che le attraversano e poi non prendere decisioni per evitare la chiusura della Carpinone sul Mona, sembra essere una politica poco o per nulla attenta allo sviluppo reale di questi territori. Sarebbe veramente bello pensare a queste terre percorse da un trenino turistico appositamente attrezzato che possa circolare giornalmente a costi ridottissimi per permettere di visitarlo a turisti di ogni ordine e grado, comprese le scolaresche. Ecco perché sabato 9 novembre potrà essere indicato come il punto di svolta definitivo del passaggio dalle parole ai fatti per la lotta in difesa dei territori interni del Basso Abruzzo e dell'Alto Molise. Lo prossimo 30 novembre fino all'8 dicembre si svolgerà la 18esima Fiera Artigiana di Milano. L'Unione Regionale Artigiani del Molise ha organizzato un pullman per consentire agli addetti del settore di partecipare. Sentiamo Tonino Danese. La Fiera Artigiana di Milano è la più grande mostra mercato internazionale dell'artigianato dal 30 novembre all'8 dicembre, la 18esima edizione nell'area Fiera Milano-Ropero. 110 paesi rappresentati, 3.000 espositori, oltre 100.000 prodotti unici in vendita. Un'occasione di confronto e di conoscenza di un settore importante per l'economia italiana e di realtà come il Molise. L'Unione Regionale Artigiani ha deciso di organizzare un pullman 60 posti per far partecipare alla Fiera agli addetti del comparto interessati. Partenza è il 29 novembre dalla piazzale di San Giovannello a Campobasso, due pernottamenti e rientro domenica 1 dicembre. Il termine fissato per prenotarsi al momento è il 10 novembre. Per informazioni consultare il sito www.catamolisecentrale.it. L'invito è rivolto alle micro e piccolissime imprese. Chiunque possa essere interessato a questa fiera, a questo evento, basta chiamare i nostri numeri che sono lo 0874 94 470 e chiedere di come poter partecipare alla fiera di Roma. Per il Presidente dell'Unione Artigiani, Massimo Trivisonno, la fiera è un'occasione importante per il settore. Riteniamo che in questo momento possiamo dare un grosso contributo alle nostre micro e piccolissime imprese, facendo riconoscere delle realtà che forse loro non conoscono, ma mettendo soprattutto a confronto con tantissimi altri colleghi di altri paesi. Ma qual è la situazione dell'artigianato in questo periodo di crisi? Sono vari tipi di forme di artigianato. Se guardiamo l'edilizia, la crisi è molto più forte rispetto ad altri settori. Ma se noi guardiamo altri settori, tipo artigianato di servizi, come il talzolaio, il barbiere, il parrucchiere, questi non hanno tanto subito la crisi, ma hanno anche un leggero incremento del loro lavoro. A 14 giorni dall'apertura si sta rivelando già un successo la mostra sull'emigrazione La mia seconda patria, curata da Antonio D'Ambrosio, Alex Gil di Campobasso. Totalizzate mille presenze, di cui 300 solo di studenti accompagnati dai docenti per una visita didattica. State vedendo le immagini. I ragazzi si sono dimostrati molto attenti alla tematica e hanno interagito facendo domande. Con il progetto Adotto un personaggio, le classi aderenti all'iniziativa si collegheranno virtualmente con una comunità di corregionali che vivono dall'altra parte dell'oceano o in Europa. La piattaforma virtuale sarà operativa all'interno della ex Gil, negli spazi adibiti alla mostra e sarà una vera e propria connessione in diretta. Lasciamo queste immagini e parliamo di una vicenda davvero singolare. Ricordate che ce ne eravamo occupati anche nel nostro telegiornale qualche giorno fa. Adi Sernia aveva aperto una discoteca che è stata chiamata la Mecca. Ebbene, i gestori del locale ora hanno dovuto cambiare nome perché la comunità islamica ha protestato ritenendo offensivo l'accostamento tra un locale di divertimento e la città santa dei musulmani. Così hanno optato per un più diplomatico Oriental Disco Club. Ci racconta questa vicenda Sergio Di Vincenzo. Accade anche questo a Sernia. Una discoteca ha dovuto cambiare nome per evitare incidenti diplomatici con la comunità islamica. Lo ha riferito il gestore del locale Mario Ferri, il giovane originario di Monteroduni, noto per le sue clamorose invasioni di campo su tutte quelle mondiali di calcio in Sudafrica. Ma quest'ultima incursione nella sfera religiosa, seppur involontaria o per così dire in buona fede, stavolta non sembra essere stata gradita. Una delegazione dell'Associazione Islamici Italiana che è andata al comune e ha sottoposto al sindaco Brasiello e all'assessore Galasso e al comandante dei vigili urbani anche questo problema, ha sollevato il problema che noi abbiamo chiamato la discoteca La Mecca, che è il luogo di culto per loro della religione dell'islam. Il problema che hanno sottoposto è che l'Ede, la loro fede, per loro è rispettoso. Non erano d'accordo con questo nome, purtroppo ci siamo visti costretti a cambiare il nome, non vuole essere una cosa né per prendere in giro né altro. Rimosso il nome La Mecca resterà solo la dicitura Oriental Disco Club, un piccolo ma fondamentale accorgimento per far sì che questa attività possa andare avanti senza problemi. Pur di lavorare perché siamo dei ragazzi giovani, io sono a capo ma ho almeno 10-15 ragazzi tra barristi, gente del guardaroba, PR, tutti ragazzi giovanissimi, tutti sotto 25 anni che ci abbiamo da fare per in questo momento difficile per noi giovani di lavoro, c'è poco da fare e chi riesce a fare a volte si ritrova ostacoli più grandi di noi che attanagliano un po' il nostro lavoro. Comafia e prevenzione sanitaria saranno questi temi affrontati nella trasmissione Mobidic in onda come sempre in diretta stasera alle 21 su Telemolise. Ospiti in studio l'assessore regionale all'ambiente Vittorino Facciolla, il presidente di Lega Ambiente Molise Maria Assunta Libertucci, il presidente di Libera Franco Novelli, il vice sindaco di Agnone Maurizio Cacciavillani, sindacalisti Tecla Boccardo, Will Sanità e Carmine Vasile della Fialz. Ci sarà anche il contributo esterno dei sindaci di Larino, Vincenzo Notarangelo e di Pozzilli, Nicandro Tasso e del procuratore capo di Sernia Paolo Albano. Questa era la nostra ultima notizia, la linea adesso alle previsioni del tempo, poi come sempre all'informazione sportiva, noi ci vediamo invece tra mezz'ora alle 15 per un aggiornamento delle principali notizie del giorno. A più tardi, buon pomeriggio. A più tardi, buon pomeriggio.